Asse frio, mel de nero, en el ala, en mi sombrero, hoy se posa... Londra si colora di rosso con i tappeti di una delle designer più amate della Spagna, e ormai famosa internazionalmente, Nani Marchina. Catalina, sempre tiene, viento con lo perere... La mostra rojo, rosso appunto, nello spazio dedicato all'arredamento di interni Geoffrey Dryton di Londra, combina il meglio del designer spagnolo con i celebratissimi tappeti di Nani, sotto la supervisione di Luisa Slava, uno dei talenti emergenti spagnoli. Abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più rappresentativi delle ultime produzioni spagnole di design, i prodotti delle imprese che sono più conosciute anche nelle fiere internazionali, all'estero, e ovviamente li abbiamo scelti secondo il tema dominante della nostra mostra, il rosso, e quindi se i prodotti non erano di questo colore, ad esempio, sono stati realizzati in rosso proprio per questa mostra. Una mostra impreziosita dalla installazione di Slava, che utilizza un susseguirsi di specchi, che riflettono il rosso delle opere e dei tappeti famosi di Nani, all'infinito. Ho realizzato questi specchi enormi, che sono posizionati uno di fronte all'altro, proprio per far sì che questi tappeti rossi continuino, proprio come all'infinito. Tra le opere in mostra, una lampada face-to-face dello stesso Luise Slava, una poltrona di Jaime Aion per Barcelona Design e la ad hoc chair di Jean-Marie Masseau per Vic Carbe. Abbiamo selezionato dei pezzi e delle opere di design che in qualche modo fossero in linea con la scena che avevamo preparato, questa scena fatta di specchi che vanno all'infinito. Per questo, ad esempio, abbiamo scelto questa poltrona di gusto, se vogliamo, un po' il ritro, che si adatta all'ambiente, un ambiente quasi teatrale. Su tutto, i tappeti rigorosamente rossi di Nani Marchina, i veri protagonisti della mostra. Ho sempre cercato di innovare con i miei tappeti, anche se è difficile spiegare che cosa sia l'innovazione nel campo dei tappeti, proprio per le difficoltà del processo di realizzazione e per la ricercatezza dei materiali. Qui ho portato un modello rosso di tappeto di rose, un tappeto totalmente coperto di rose rosse, che richiede una lavorazione molto particolare. Al party di inaugurazione affollato da esperti amanti del design, il must è stato appunto indossare qualcosa di rosso. Che significa Nani Marchina? Nani Marchina significa colore. Rosso perché Nani Marchina significa colore, e il rosso è di certo il colore più potente. È curioso perché facciamo molti tappeti in questo colore, e di certo è quello più richiesto, il colore più richiesto. Ed è per questo che abbiamo deciso di portare il rosso a Londra, che è una città che di certo non farebbe pensare a questo colore. In più il rosso è il colore che si associa alla mia terra, alla Spagna, al Mediterraneo. Ecco da dove è venuta l'idea del rosso. Si asocia molto il rosso con il Mediterraneo. Ecco da dove è venuta l'idea del rosso.